Continuano le aggressioni al carcere di Foggia, violenze e ribellioni sono all'ordine del giorno. Quali sono le proposte attive del SAP? Purtroppo questa è la politica di questo governo e dei governi precedenti. Il carcere è allo sfascio totale perché mancano rispetto delle regole all'interno dell'istituto. Manca il poliziotto penitenziario, manca una dirigenza di questo istituto che si avvada a contrastare il crimine qui dentro. Noi diciamo basta come sindacato autonoma poliziotto penitenziario e siamo qui per portare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà ai poliziotti penitenziari qui di Foggia e per dire all'amministrazione ma soprattutto all'amministra viene a Foggia, viene a vedere in che condizioni vive l'istituto di Foggia e i colleghi. I colleghi qui presenti sono tutti sbondati di notte e vogliono qui portare la loro attestazione del disagio che vivono all'interno dei istituti. Abbiamo creato nell'istituto, ed è quello che destabilizza il sistema, il ricovero di tutti i disagi mentali, di tutti i psichiatrici che destabilizzano il sistema. Quindi regole precise, la polizia penitenziaria è qui all'interno dell'istituto per gestire il crimine, fare prevenzione ma fare anche repressione. I poliziotti vanno aiutati, il SAP è qui per portare vicinanza, solidarietà e per dire a questi nostri colleghi noi ci siamo, ci batteremo perché a Foggia si ripristina la legalità e si dia il personale giusto per fare il servizio dignitoso. Riepilogando brevemente l'emergenza in numeri, quanti sono i poliziotti penitenziari in servizio al carcere di Foggia rispetto a quanti detenuti? I poliziotti penitenziari in servizio a Foggia sono circa 270, qui quegli amministrati sono di meno perché da questo istituto in pianta stabile poi molti poliziotti sono stati mandati in supporto tecnico-logistico a San Severo dove dovrebbero assegnare personale effettivo avendo diritto e in altri servizi logistici che sono all'interno e all'esterno dell'istituto, vedi 40 unità che sono coloro addetti al piantonamento e alle traduzioni. Siamo pochi, i detenuti sono 580 ma qui a Foggia ci sono detenuti particolari. Una criminalità che vuole aggredire lo Stato perché noi siamo lo Stato, vogliamo la legge che ci tuteli ma soprattutto vogliamo i poliziotti giovani che vengono direttamente dalle scuole in questi reparti per gli ingiovanili reparti e per dimostrare che lo Stato c'è e le risposte le sa dare.